Cavalier Luzzati, alla fine di quale percorso arriva questa onorificenza? Una lunga attività imprenditoriale sviluppata fin da quando ero molto giovane che è andata a proseguire l'attività imprenditoriale della mia famiglia che fin dal primo dopoguerra aveva sviluppato attività in vari settori. Dal 1990 ci siamo concentrati in particolare nel settore lattiero caseario con un'azienda vicino a Genova, Latte Tiguglio, che abbiamo progressivamente sviluppato integrandola poi azionariamente con la centrale di Latte di Torino di cui io sono diventato presidente nel 1998. Imprenditori si nasce o si diventa? Imprenditori secondo me si nasce e poi bisogna continuare però a coltivarsi durante la propria carriera professionale perché il mondo cambia, le esigenze cambiano la vita delle aziende in questi anni è cambiata molto, i mercati richiedono soluzioni diverse e quindi bisogna continuare a essere aggiornati, studiare e non accontentarsi dei risultati già raggiunti. L'anello di congiunzione tra il mondo dell'impresa e la formazione è rappresentato anche dal collegio L'Amaro Pozzani che fa capo alla Federazione dei Cavalieri del Lavoro. Cosa ne pensa? Ne avevo sentito parlare, oggi sono riuscito ad apprezzare da vicino queste attività i ragazzi mi hanno fatto un'ottima impressione, mi sembrano tutti molto motivati e quindi è un'ottima iniziativa che occorre consolidare e sviluppare.